In sala tutti i quali che hanno partecipato alla battaglia, sì, datemi una dimostrazione. Spero che ci siano, ecco, uno, due, due, Michael, tre. Grazie Valentina di essere arrivata. Ok, il vincitore della Battle of Fans è Michael Dallon per la Via Magica col fondo Target. Un applauso, un applauso a Michael. Un applauso a Michael Dallon per la Via Magica. E quindi grazie a tutti per avermi votato, ma adesso spero che investirete nel nostro fondo. Grazie a tutti. Un applauso, un applauso. Grazie, grazie Valentina. Grazie a tutti.